Mi chiamo Gabriele Proto, la mia gioventù l'ho passata anche in Africa con un ONG. Mi occupavo di programmi plurisettoriali, quindi agricolo, sanitario e sociale. Nel 2000 ho fatto le ultime missioni e poi è finita la mia verdura africana. A giugno del 2000 ho acquistato il primo pezzo di terreno qui, circa due ettari e mezzo. Poi piano piano siamo arrivati a 14 ettari. Produciamo aromatiche, olio di oliva e mandorle fondamentalmente. Aromatiche perché la zona è vocata e perché mi piaceva coltivare aromatiche. Abbiamo fatto un finocchietto con prodotti dell'azienda, ovvero finocchietto, mandorle e olio di oliva che speriamo rifare ora con la produzione del finocchietto di marzo. Eccoci qua in ufficio dove si svolge la maggior parte del mio tempo. Il mio ruolo è stato sempre quello della contabilità quotidiana. Poi man mano che il consorzio è cresciuto, Elisabeth mi aiuta per la parte fatturazione. Quando è cresciuto ancora il consorzio abbiamo anche avuto bisogno di una terza persona che è Marco Parlascino. Oltre all'amministrazione mi sono occupato anche di progettualità, di strutturazione delle aziende nell'ambito della biodiversità e anche dell'integrazione di alcuni migranti, ragazzi minorenni arrivati qui in Sicilia. Non riesco a vendere tutto il prodotto con il consorzio. L'origono ne riuscirò a vendere circa il 40%, timo, rosmarino e salvia massimo il 30%. Il resto del prodotto se non lo raccolgo rimane in campo, se lo raccolgo non trovando altri fornitori facilmente viene distrutto, diventa UBUS. Il futuro del consorzio lo vedo bene se si riesce a far convergere i punti diversi verso un obiettivo comune, quello di far raggiungere ad ogni azienda una percentuale di produttività minima per la sostenibilità.